What's on? What's on? Speciale Tosma What's on? La Sala 3 di Lingotto Fiere ha ospitato nell'ultimo giorno della manifestazione la conferenza dal titolo Soluzioni gestionali innovative per la reale competitività delle imprese. Attraverso la testimonianza dei maggiori attori del mercato di riferimento, il convegno ha avuto il merito di dare un quadro organico delle opportunità competitive che la scelta di un sistema gestionale integrato ERP può offrire alle aziende. Il sistema ERP, cioè la gestione informatizzata delle risorse dell'impresa, è in grado oggi di controllare tutte le aree sensibili, supply chain, amministrazione, finanza, budget, gestione delle risorse umane, produzione, magazzini, sales and workforce automation e customer relation management. Mario Manzo, direttore generale della fondazione Torino Wireless, ha aperto i lavori e ha portato i saluti al pubblico. Walter Cantino, direttore della scuola di amministrazione aziendale dell'Università di Torino, è intervenuto sul tema il gestionale e l'ERP per l'impresa del futuro. In seguito, Paolo Colli Franzone di Netix, ha moderato gli interventi di Grazia Calorio di Capgemini, Giovanni Ezzoffoli di Microsoft e Marco Riva di Sidi sulle soluzioni innovative per la gestione globale dell'impresa del futuro.